Ok, eccoci qua nel nuovo episodio di Minecraft. Come vedete qua, stavo facendo questa roba qua. E che cos'è? In pratica è una ferrovia che mi porta... aspetta, not... Cristo... là, mi porta lì. Non lì sopra, ma... lì sotto. Bene, se avete capito, va bene, se no, va bene. E quindi adesso... ah, qua poi ho fatto questa stanza, ho fatto il tetto, roba così, le ceste le lascio lì perché non mi fuga niente. E quindi adesso vorrei andare a cercare altre... come si chiamano? Le rotaie, perché faccio... faccio, 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 come si chiama? Cioè, proseguo con la rotaia. Quindi... vabbè, ho fatto anche la spada questa qua. Eh, ci vediamo dopo, forse... giù in caverna. Ok, eccomi qua. Perché continua alla gara non si sa. E adesso serve... l'unica cosa che manca sono le rotaie, quindi... Eccoli qua. E me ne servono... un bel po'. Ok, quante ne abbiamo? 43? Non bastano. Se gentilmente la smette di laggare. Ecco, e dovremmo arrivare qua, in pratica. Là sopra. Così io scendo... in caverna. Ok, dai, allora... Ne ho... C'ho uno stack. E' uno da 60... Da 19. Penso che... possano bastare. Adesso... vediamo. Devo tornare a casa perché... non c'ho niente di cibo. Non ho un tubo. Eh, Dio Cristo. Signor. Oh, bene. Allora, sono arrivato fino qua. Sì, sì, fa... Però sono dettagli. A me va bene così. Adesso mancano solo le... Powerhead Rail. E siamo a posto. Se non la smetti di laggare, io distruggo tutto. Qua ci manca una Power Rail. E quindi facciamo la Power Rail. Quindi va così. Ne facciamo 6, 12... Ne facciamo 6, 12... Facciamone 12. Ok. E poi ci servono le torce. Ok. Io direi di andarle a piazzare. Quindi... Ok. Bag del minecart. Ok. E quasi quasi ci mettiamo... E... Una Power Rail qua. E sotto... E' attivata... Una... Qua. Gesù Cristo. Mi sarebbe che ho sbagliato, infatti. Ok, vado a prendere la... Stavo dicendo, vado a prendere la palla. Che se no ci mettiamo 30 anni. Invece ritorniamo a casa. Perché sta diventando... Bene, rimettiamoci al lavoro. E... Qua saliamo. Quindi ce ne metto... Uno. E ce ne mettiamo due. Ok. Qui non so se ce la fa. Penso proprio di no. Quindici. Mettiamo... Una... Qua. Poi qua facciamo girare. E basta. Vediamo se funzia. O se bisogna sistemare qualcosa. Ok. Allora c'è il bug del... Del... Del minecart. Non so come... Sia possibile. E... Vabbè. E... Qua sta funzionando. Vediamo. Perfetto. Funziona. Cristo Gesù Bambino. Perfetto. Allora. E... Quello che dovevo fare l'abbiamo fatto. E... Noi ci vediamo nel prossimo episodio. E non so cosa facciamo. Cosa faremo. E... Noi ci vediamo appunto nel prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.